Ciao, sono Davide Galanti, oggi ho scoperto un nuovo nemico della buona gestione aziendale, si chiama il mago di Excel, il mago di Excel è in quasi tutte le aziende, è quello che riproduce un enorme blob di foglio elettronico in grado di fare tutto, il finance, il calcolo di fabbisogno, la pianificazione, le scorte minime, i listini e soprattutto quando arriva Natale è quello che fa le lettere d'accompagno alle estreme natalizie, quello che vi dice a chi mandare gli omaggi, peccato che manchino i clienti nuovi o magari c'è un destinatario che si chiama gentilissima Mario Rossi, che però magari non esiste più in quell'azienda. implementiamo un CRN, implementiamo quindi un sistema completo che consente di costruire un rapporto preciso e puntuale con il nostro cliente, la persona giusta al nostro interno che parla con la persona giusta di quel cliente, che parla, che costruisce un rapporto, che crea un valore. Usiamolo.